Seelings torna circa dopo sei mesi a Badolato per proporre delle proposte attuative di valorizzazione del patrimonio culturale, così come avevamo valutato già a luglio di tornare per proporre qualcosa di concreto dopo un momento di riflessione, ecco che è arrivato questo momento. Sono due poi le linee più concrete forse che ci possono vedere impegnati, tanto come Accademia di Belle Arti e quindi Seelings in tal senso, tanto grazie alla collaborazione con l'Università di Pisa e con la professoressa Antonella Gioli che è tornata qui a Badolato ad aprile dopo vari mesi. La nostra vocazione è certamente territoriale, però parlare al territorio significa poi riuscire a farlo cercando di conciliare il particolare con l'universale o comunque il micro e il macro, a partire da un territorio che non può essere solo marginale da un punto di vista geografico, ma cercando di riflettere sul marginale e trasformarlo in qualcosa di positivo, come centro di sperimentazione forse lontana da quegli standard che ti obbligano alcuni parametri di riferimento. Perciò benvenga l'unità, in questo caso con l'Accademia, con l'Università di Pisa, in altri casi con altre accademie o con altre università, perché ci permettono anche di avere uno sguardo oltre e altro di questo territorio. Nel caso specifico, le due proposte progettuali ci portano alla possibilità di realizzare un archivio digitale condiviso e poi un percorso di valorizzazione delle pietre parlanti. Un progetto nato nel periodo della pandemia qui a Badolato da due artisti è di raccontare altri miti, altre storie, altre storie di impegno politico anche attraverso la visione dell'arte. Ceilings 5 si è sostanziata già di tante attività, tra cui anche le mostre al Box Museum. La prossima si inaugurerà a metà aprile con l'artista Andrea Grosso Ciponte, ce ne sarà un'altra con Caterina Arcuri, ma ancora una volta proporremo come cuore di questa edizione un'altra Summer School. Questa volta la location sarà Stilo. Siamo al lavoro con l'amministrazione comunale di Stilo già a partire dal mese di febbraio. Abbiamo un tema che parla di futuro e parla di visione del futuro a partire dalla natura e dall'intelligenza artificiale. L'arte ci farà ovviamente da Tredunion. Da vari sopralluoghi a Badolato e poi dalla nostra residenza, qui insomma nasce questa guida che ha lo scopo di far conoscere Badolato praticamente le sue meraviglie. Ci proponiamo quindi ad un pubblico che è giovanissimo e che ha differenti target, quindi può partire dai sei fino ad arrivare anche ai dieci anni senza problemi, e quindi raccontare il paese di Badolato attraverso, diciamo, le parti più importanti e nello stesso tempo attraverso vari giochi che quindi permettono al bambino, insomma, di imparare giocando. L'amministrazione comunale è orgogliosa di questa collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti. L'anno scorso abbiamo appunto iniziato questo percorso meraviglioso e queste opere straordinarie che sono state realizzate per noi è veramente un motivo di orgoglio e quindi di proficuo lavoro che si può fare per arrivare proprio alla valorizzazione del nostro paese. La storia è proprio l'anima, quindi è la cosa più importante. L'arte può essere veramente il fenomeno di massima rappresentanza e quindi l'Accademia delle Belle Arti per noi in questo caso è il tassello fondamentale.